è bellissimo quando c'è un problema alla macchina chiami l'agenzia e siccome non hanno più macchina di quella classe ti danno una camaro vito abbiamo la ciavela di tu? Sì a posto. Diggielo a vita mia la 500 depotenziata a noi sta bene è vero? il chiodo di macchina a noi sta benissimo oh guarda il mare che ore sono? si parla tanto del clima mite di tenerife però oggi proprio ci sono super giù quant'erano? 86 gradi? 40 ora ce ne saranno 40 niente io però sai che c'è vitto vitto cosa lo vedi che non senti guardarla come è combinato vitto amo no no parli con me pensavo che parlavi via messaggio io no io non pensavo con Claudio con Claudio questa donna qua osserva perché ha paura c'è un po' di maroso e ha paura ad appropinguarsi ci tocchiamo? c'erano ragazzi che facevano tutti da là mamma di nuovo da un lato dobbiamo prendere? non penso non lo so il terrore tu dormi ti chiudi bella tranquilla va bene? ciao 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 Grazie a tutti.